Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma ci sono 8 km di coda tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino e code tra Firenze e Impruneta e Incisare Gello. In direzione Bologna 8 km di coda per un veicolo fermo al km 267 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In FIPLE per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono 1 km di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno con chiusura dell'uscita di Montelupo provenendo da Firenze e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!